Questo video lo dedichiamo con amicizia al giovane Bettonelli che certe cose non le sa, tratto dal canale Telegram di Nicolai Lilin, ma le parole di Elon Musk. L'America sempre condannato come malvagi coloro che usano le bombe a grappolo e ora le mandiamo ad essere usate, non c'è niente di buono in tutto questo, il destino ama l'ironia ma odia l'ipocrisia, il destino ama l'ironia ma odia l'ipocrisia, da qui il mio atteggiamento sempre ironico, molto spesso ironico, che però deve essere capito. E poi la ciccia, quello che dicevo io in una recente diretta, sostanzialmente, la Russia ha almeno quattro volte più artiglieria dell'Ucraina e dieci volte più munizioni. E lo dice pochi giorni dopo, dopo che l'ho detto io, lo dice addirittura Elon Musk, che qualcosa ne saprà e che sarà ben informato. Elon Musk Abbiamo esaurito le munizioni normali da inviare all'Ucraina, così ora le mandiamo bombe a grappolo per disperazione, umiliandosi senza cambiare risultato, umiliandosi senza cambiare risultato. La Russia ha almeno quattro volte più artiglieria dell'Ucraina e dieci volte più munizioni. Lo sanno tutti, Elon Musk ce lo dice tranquillamente. E allora non sarà il caso di cambiare atteggiamento e di iniziare a valutare la possibilità di trattare. Iscrivetevi al mio canale e caro amico Bettonelli, in amicizia non tutto è grafico, non tutto è grafico. I grafici non spiegano tutto.